amici buongiorno e bentornati sul canale del produs sono marco e oggi vi presento magi dolce se partecipate al nostro streaming se partecipate soprattutto alla mia di streaming questo mazzo l'avete visto un sacco di volte anche perché è proprio con questo che noi decidiamo di chiudere la live ogni volta facciamo l'ultimo match e chiudiamo col dolce appunto oggi ve lo presento ve l'avete visto tante volte sul canale ma voglio farvi una piccola disamina su come funziona siamo a cavallo con le nuove carte domani usciranno stati registrando questo video il 3 di aprile domani usciranno le nuove carte e sicuramente vi porteremo tutti i mazzi nuovi che stanno a creare con tutte le nuove carte ma intanto concentriamoci su magi dolce e andiamo a vedere subito la lista partiamo dai mostri tutto quello che è magi dolce di forte noi lo giochiamo giochiamo 3 magi lane che il nostro sercino ci aggiunge un magi dolce dal mazzo abbiamo angelatina che invece evoca un magi dolce dal mazzo tributandosi abbiamo peti che invece se non controlliamo mostri al cimitero possiamo evocare special e se viene evocata special fa special un magi dolce dal mazzo calandogli il livello di 1 tutto per evocare la nostra padding padding concettualmente è la carta più scarsa del mazzo anche perché non fa niente rilevante quando combatte poi spacca una carta sì ok si può un po di 800 se non ci sono mostri il cimitero sì ok tutto è rilevante ma servirà perché avendo c'era come materiale sotto cioccolato alla moda ci permetterà di attivare l'effetto il turno in cui le evochiamo infatti poi farò vedere la combo specifica per finire il reparto mostri giochiamo due hot cake targetta uno dal cimitero lo banni ed evochi uno dal mazzo e poi messa in gelato il vero e proprio brick del mazzo quello che tu in mano non vuoi vedere e se lo vedi è un problema ne giochiamo due copie perché due sono quelle che servono per la combo quando viene evocato specialmente se controlliamo un mosso di tipo bestia che è torta calda andremo ad aggiungere una magia o trappola maggi dolce al deck alla mano maggi lane e e messa in gelato non sono una volta per turno mentre peti angela tina e wood cake sono una volta per turno tutti i maggi dolce inoltre hanno un effetto principale quello che quando vengono distrutti ma del cimitero tornano nel mazzo questo è importante perché è la meccanica base del mazzo chiudiamo il reparto dei mostri con due max c una hash e un nibiru servono come target di cross out praticamente perché questo mazzo in realtà come avete visto all'effetto di peti che non deve controllare mostri del cimitero per evocarsi special non vuole giocare mostri che vanno al cimitero quindi giochiamo max giusto perché si può scartare quando si vuole quindi può essere una carta interessante avendo cake in mano senza mosse il cimitero ed è una di quelle carte che comunque ci porta tanto vantaggio quindi magari se abbiamo peti comunque possiamo pescare in gelatina e fare la combo quindi diminuiamo le carte per partire ma aumentiamo intanto la pesantezza su board visto che comunque il nostro avversario è preoccupato al max c che è risolto e in più abbiamo la possibilità di pescare magari altre carte che ci servivano per la combo spostandoci al lato magie e trappole partendo dalle magie abbiamo due per di extravagance e tre per di prosperi è un mazzo che ha bisogno di vedere altre carte paradossalmente parte con nuove carte e ne basta una di queste nove per partire e fare tutta la combo sia difensiva che offensiva perché sia che dobbiamo fare il turno 1 sia che dobbiamo farlo di cappa ci basterà una di queste carte qui eppure abbiamo bisogno di un sacco di carte per vederla infatti l'extra è giocato tutto in tre per praticamente appunto per evitare che extravagance vada a bandire cose troppo brutte spostandoci alle magie magi dolci giochiamo uno per di ognuna anche se salone effettivamente potrebbe essere giocata più di una copia ma ho preferito giocarla uno perché tutto sommato è una carta che ha bisogno di altre carte per funzionare quindi tanto vale aggiungersela castello praticamente da 500 attacco di pesa a tutti i magi dolce mischia tutti i magi dolce nel cimitero al momento dell'attivazione e se un magi dolce nel cimitero sta per tornare nel mazzo possiamo invece farlo donare in mano che questa è una recovery incredibile biglietto se un magi dolce sta per tornare in mano o viene messo nel mazzo questo stesso effetto fra salone ticket ticket aggiungerà un maggi dolce alla mano e se controlliamo un fata praticamente tutti questi sono fata più tutti quelli dell'extra lo potremmo evocare invece di aggiungerlo molto forte salone invece con la stessa condizione settiamo una magia trappola dal mazzo e potremmo settare anche promenade che poi andiamo a vedere dopo per concludere il reparto delle magie abbiamo cinque parini il mazzo soffre tantissimo l'ht è super fragile abbiamo due colled e tre cross out e poi uno spolverino per i mazzi con tante trappole e tre drop importantissime per i mazzi molto molto combo come interruzioni inoltre abbiamo tre impermanence valgono sia come interruzione ottima perché non è un mostro sia come target di cross out e per finire promenade carta particolare targetta una carta scoperta che l'avversario controlla è un mostro sul terreno nel cimitero ovviamente magi dolce torniamo in mano quel mostro neghiamo quella trappola o magia o mostro o qualsiasi cosa basta che sia scoperta ed è una carta super 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 forte il mazzo ha preso tantissimo vantaggio quando è uscita questa più petit più salone il mazzo è migliore tantissimo io lo seguo da dieci anni questo mazzo e non è mai stato forte come adesso passando all'exar rapidamente abbiamo bagusca l'irank 4 standard per stallare zeus può risultare utile e a usa abbiamo tutti terra magari possiamo andare a rubare a rubacchiare un mostro prendere vantaggio cartuzza così giusto per filare l'extra non li calerete mai giocherete sempre con l'extra magi dolce facciamo un focus on partiamo da quello più scarso ma che comunque ha la sua utilità fresh si start quando questa carta punta dei mostri magi dolce le nostre magie trappole scoperte non possono essere targettate né distrutte dagli effetti delle carte importante per preservarle in più se questa carta sta per essere distrutta in battaglia dall'effetto di una carta possiamo mischiare un mostro maggiolce dal cimitero invece di distruggerla molto forte perché perché l'avversario non legge le carte molto forte perché triggere gli effetti di ticket di salone possiamo recuperare risorse con chateau insomma carta forte però rimane la più scarsa delle quattro abbiamo teacher grasso flè questa è la carta che ci farà partire nonché la nostra and board quando partiamo a turno 1 possiamo staccare un materiale da questa carta e targhettare un mostro maggi dolce sul terreno quello sarà immuno dagli effetti dei mostri per tutto il turno eccetto ovviamente esso stesso e effetto più importante se una carta maggi dolce viene mandata al cimitero in qualsiasi modo anche se lei stessa stacca dal materiale possiamo fare shuffle quindi mischiare nel deck due carte dai cimiteri senza fare target questo ci permette di rimischiare o nostre carte per gestire le risorse oppure carte dell'avversario questa è una cosa molto 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 forte effettivamente fa giocare questo mazzo fa mille cose ve lo riassumo semplicemente entra sopra un rank 4 quindi o sopra teacher o sopra queen se abbiamo come materiale pudding che ovviamente verrà calato la pt e quindi sarà sempre quel materiale targhetteremo un maggi dolce nel nostro cimitero lo mischieremo nel mazzo e ogni volta che viene rimischiato un maggi dolce nel mazzo stacchiamo una ed evochiamo non una volta per turno quindi vi faccio capire che durante la combo vedremo lei che mischierà il mostro mandato al cimitero dall'effetto di grasso flare e partiremo con la nostra combo e finiamo con la prima carta forte che è uscita di questo mazzo la prima carta che si è giocata la tiara misù stacca un materiale da questa carta targhetta fino a due carte maggi dolce dal cimitero carte non mostri mischia quelli nel mazzo e dopo che lo fai mischia carte del tuo avversario nel mazzo quindi tante quante ne rimischiate tu senza fare target è una delle carte più forti che ci siano tuttora perché mischiare due senza fare target è uno degli effetti più forti che ci può essere e accompagnato alla prepotenza offensiva di questo mazzo rende il mazzo ovviamente un for fan ovviamente super instabile tutto quello che volete ma divertentissimo e ora venendo un assaggio andiamo subito a vedere come funziona la combo parliamone assieme ok ragazzi eccoci tornati per vedere un attimino la partita vi farò vedere una combo non sarà la mano sicuramente più forte che il mazzo può offrire ma mi serve solamente per far vedere un pochettino come giocare qua siamo partiti con tante carte inutili ma come ho detto non è quello l'importante faremo un focus on anche sul mazzo poi effettivamente quando lo giocheremo in streaming che secondo me è l'ambiente migliore per vedere un mazzo del genere perché varia tanto in funzione di cosa gioca l'avversario vedrete questo discorso anche per dino anche se oggi in live per chi c'è stato questa domenica abbiamo fatto una partita contro drayton incredibile quindi spoiler vedrete quella nel video del dino questa settimana e via con replay combo con angelatina il nostro avversario ovviamente aveva max c ma noi questo giro c'avevamo hash quindi tutto buono e praticamente noi adesso andiamo a fare l'effetto di angelatina per portarci torta calda perché torta calda perché abbiamo hash il cimitero che è libera da poterla bandire ed evocare peti peti ci serve all'inizio perché dobbiamo evocare pudding quindi capite bene che pudding in mano sia inutile ed è inutile pure chateau perché ci andremo a prendere ed è inutile pure promenade perché c'è tempo a prendere ma la mano è stata questa quindi va bene comunque non sono veri e propri brick perché ci parte lo stesso come vedete abbiamo fatto subito il l'ex is 4 e sopra ci abbiamo messo pudding l'abbiamo fatta a posto perché ci abbiamo già un mostro il cimitero effetto di bonding mischi ed evochi ok vi ho fatto questa combo in questo modo perché così vi spiego un'interazione interessante fra poco quindi andiamo a prenderci la carta da messengerato ci andiamo a prendere biglietto perché biglietto perché adesso appena noi rimischieremo tutte le carte di chateau occhio a non staccare l'ex is come materiale sotto perché l'ex is non andrà nel main deck e quindi non triggerà il secondo effetto di cioccolato a questo punto cosa facciamo ticket si incatena come uno perché è obbligatorio andremo a fare catena 2 pudding ma occhio non evocate messengerato in catena 2 perché visto che la carta ha questo testo in questo modo quando questa carta viene evocata special vedete questo when vi fa capire che se evocato in catena 2 sfuma e quindi non andrebbe ad aggiungere perciò evocate tranquillamente angelatina perché poi ce la riprenderemo in mano e con biglietto prendete messa in gelato a questo punto salone e poi fate teacher levate questi due fate si start perché prima teacher e poi si start ok qua però occhio ho fatto un piccolo errore niente di che perché poi con biglietto il turno dopo si può evocare ma occhio cercate di tenervi questa zona libera e mettete subito questa qua sotto questo è importante però comunque abbiamo il setup buono comunque perché il link dopo l'exis perché quando i mossi maggiori ci andranno al cimitero per via dell'evocazione potete triggerare l'effetto di grasso flair e riprendermi i vostri direttamente in mano capito quindi avrete di nuovo le risorse in mano e in più con salone potete settarvi a questo punto un'altra promenade e questo ragazzi è il setup generico di fine immaginatevi che comunque questa combo voi la fate con a gelatina e basta cioè basta a gelatina per fare tutto questo quindi idealmente voi in mano avete altre quattro carte quindi nella normalità dei casi avete quattro carte più queste due e quindi avete sei carte in mano più tutto il terreno e questa è la potenza poi effettiva di maggior cioè il continuare a fare plus su plus su plus su plus per poi spingere l'avversario a effettivamente avere problemi perché noi in questo momento abbiamo una sola negazione che è promenade è un'interazione dal cimitero ma fidatevi che è veramente complesso passare soprattutto a questa roba perché questa non muore in battaglia questa non muore in battaglia questa c'ha 3000 poi io nego ma mi entrano un mostro ma che poi me ne entra un altro e poi queste qua non possono essere spaccate e poi anche se mi distruggi tutto io in mano c'ho una gelatina e facciolo di cappi il turno dopo questa è la potenza di maggio dolce non è mai facile con maggio dolce perché ve l'ho fatto la postilla all'inizio è un mazzo for fun quindi prendetelo come tale ma tolto questo è sicuramente un mazzo divertentissimo che potete trovare spesso da me in live e sicuramente ci divertiremo assieme ora il video è finito io vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo qua sul canale per prossimi nuovi deck da vedere e in streaming tutti i giorni trovate la schedule direttamente su instagram mi raccomando ciao ragazzi ciao